ma qui ecco ci faccio anche la canna il che ma c'è la processione alla processione la processione di San Rocco eccomi che stiamo facendo la processione ma comunque non si può fare dice che c'è il covid c'è la un covid andiamo a mettere la giostra andiamo a mettere la bongarelle e la processione che si può mantenere la distanza non si può si è seduta a cosa ma voglio te voi diciamo che con il suo ma adesso ho fatto un ragionamento come si deve io faccio io faccio e purtroppo c'era una mafia c'è chi sa che si è deciso che le processioni sono vietate aspira le processioni sono vietate a 12 nell'euro e c'è questo paese appunto stanno alcuni paesi li stanno facendo potessi che a madoni alla dio ci si diverte il covid all'altro paese il covid non gestisce già io ha sparito ma e mo ce l'ha fatta la cannella e ci ha fatta la cannella e ci ha fatta la processione e vabbè ci vuoi non si fa la processione e vabbè ci vuoi non si fa la processione ma per me per che cusse e l'hai attaggione perché c'è mon valente volevo chiedere con l'armi e non cussando volevo chiedere la processione con la cannella e noi allora ma per me per che cusse allora ok l'anno pronta non la colpa 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 non la dire un giorno si trova allora quando io voglio cosa c'era che ti dica quando io voglio la cattiamo tutti i tre la cannella e ci siamo tutti i tre la processione ma io speriamo che cussandrò che è sulla tua fetta